Generare bellezza è il titolo dell'incontro di domani sera, ma è anche il titolo di una mostra. Sì, è una mostra che è stata rappresentata al meeting del 2014, dove praticamente erano illustrati tutti i progetti, dei progetti di Avsi, che è una ONG, che è presente in 37 paesi del mondo. E generare bellezza perché abbiamo visto che nei luoghi, magari anche più desolati, è possibile costruire un qualcosa di bello, che può essere un vestito per un bambino che va a scuola e può essere anche la scuola intera, dove appunto, dove vedi solo capanne, in mezzo c'è una scuola di muri come fosse più bella delle nostre, mi viene da dire. E domani sera chi sarà presente all'incontro? Domani sera sarà presente Stefania Famlonga, che è una responsabile di un progetto che è in Ecuador, dove praticamente da 11 anni è presente e sostiene degli asili, asili fatti sia nelle case, 5 asili nelle case per sostenere 30 bambini, e un asilo che si chiama Ojos de Sielo, dove appunto sostengono altri 30 bambini lì. Oltre a questo sostiene anche le famiglie, perché il problema molte volte è sostenere le madri per poter lavorare e poi quindi portare avanti una famiglia in un punto insomma difficile. Aiuti che arrivano però anche dai fondi, i fondi raccolti qua in Italia? Sì, chiaramente in tutta Italia e nella nostra provincia è presente i vari avsi point, come Fano, Cartoceto, Fossombrone, e ognuno nel periodo di Natale promuove delle iniziative per raccogliere fondi. E quindi questo anche attraverso poi fra l'altro le adozioni a distanza, che sono un'altra modalità con cui si permette a un bambino di andare a scuola e sostenerlo in vari parti appunto di questi progetti avsi. Dove si svolgerà l'incontro? L'incontro è a Lucrezia nella chiesa parrocchiale alle 21.15 venerdì sera alle 23.